Pronto. Non vi intossicate capitano, sono mezze calzette. Lo sapete perché sparano? Perché si credono di stare al cinema. Ma hanno fatto il guai e si sono andati a nascondere. E' una questione di ruoli. Le compasse escono fuori per prima. E parlano. Le prime donne invece si fanno aspettare un po' che bisogna mandare l'autista. Quelle parlano per ultimo. Voi comunque non vi preoccupate, mettetevi in prima fila. Aspettate la passerea. Che c'è? Hai paura che ti venga a trovare? Noi non spariamo sui carabinieri. Comunque se il vostro collega muore. Ve lo porto io a quello. E se non muore?